Sono Marco Dalliabue, ho 28 anni, sono arrivato ad essere ingegnere civile dopo un percorso universitario al Politecnico di Milano. Garanzia Giovani è stato un programma che mi ha permesso attraverso ENAIP e la società Sacbo di entrare a far parte di un mondo, quello aeroportuale, in cui volevo entrare. Il programma dal mio punto di vista è stato perfetto inserendomi in un contesto che era mio proprio, del mio percorso di studi, andando a darmi tutto ciò di cui avevo bisogno per crescere e per agevolare la mia presenza all'interno dell'azienda. Il tirocinio è stato il passaggio fondamentale tra gli studi e il lavoro, poiché da un punto di vista di aderenza a ciò che avevo fatto era proprio quello per cui avevo studiato. Attualmente sono inserito a livello indeterminato all'interno dell'azienda. Il tutor ha dato un senso a questo percorso. Valuto il programma Garanzia Giovani in modo positivo non solo la mia esperienza, ma anche quella delle persone che conosco che hanno attivato un programma di questo tipo.